Forse abbiamo sbagliato a non comunicare tanto i nostri risultati, ma nei prossimi giorni, mercoledì, io riunirò a Roma per presentare un sito internet con tutti i risultati dei nostri comuni, ICO, i sindaci delle città più grandi che governiamo. Oggi Ragusa è una delle città siciliane più all'avanguardia per i trasporti, la governiamo da quattro anni.